le posso chiedere come si chiama Antonio che pesca sta facendo la pesca con la bilancia com'è la pesca in questi giorni ma non va un lenta l'anno scorso si pescava di più guarda quanto aggranchi guarda ce ne sono questo è buono lo sfaghetto che è il massimo e che pizzicano e pizzicano si fanno così sto sfezzando le kelle se no mi mordono questo è un maschio una femmina un maschio come fa a riconoscerlo è più grosso le femmina sono più piccine e meno colorate un altro granchio ce ne sono parecchi di questi granchi un impasto quanti anni potrà avere questo questo non lo so dire questo è una femmina vedi c'è meno colorato sulle kelle allora oggi spaghetti si questo l'ho promesso a questo amico che ho chiamato vieni che sto prendendo i granchi migliori Grazie a tutti.